Ben ritrovati all'appuntamento settimanale Diocesi Informa con le notizie a cura dell'ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Tarlizzi. Giovedì 24 ottobre veglia di preghiera missionaria presieduta dal Vescovo alle ore 19.30 presso la parrocchia Santa Maria della Stella in Tarlizzi. Nella stessa serata si terrà anche l'incontro di formazione per catechisti ed educatori ACR dei ragazzi di terza media della città di Giovinazzo alle ore 19 presso la parrocchia Sant'Agostino per approfondire il testo a tutto spirito in preparazione al sacramento della Cresima. L'appuntamento è promosso a livello cittadino dall'ufficio diocesano catechistico. Venerdì 25 ottobre incontro diocesano per i responsabili agli educatori ACR alle ore 19 presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Molfetta. Un'occasione per dare avvio all'anno associativo e al servizio per i più piccoli. Inoltre nella stessa serata per i dieci anni di equip delle comunicazioni sociali della parrocchia San Bernardino in Molfetta si terrà un meeting alle ore 19 in parrocchia sul tema comunicazione e missione, pastorale mediale in parrocchia e connessioni di fede. Il decennale si concluderà domenica con la Santa Messa presieduta da Monsignor Cornacchia alle ore 19 sempre presso la parrocchia San Bernardino. Sabato 26 ottobre ultimo incontro di formazione per i formatori delle confraternite. Appuntamento alle ore 17 e 30 presso l'auditorium della parrocchia Madonna della Rosa in Molfetta. Lunedì 28 ottobre incontro di formazione per catechisti ed educatori ACR dei ragazzi di terza media della città di Molfetta. L'evento si terrà alle ore 19 presso la parrocchia San Domenico. Martedì 29 ottobre lo stesso incontro sarà rivolto ai catechisti ed educatori ACR dei ragazzi di terza media della città di Terlizzi alle ore 19 presso la parrocchia Santa Maria della Stella. Nella stessa serata l'ufficio diocesano per le cause dei santi propone il convegno diocesano dal titolo la carità della preghiera nella vita di Marta Poli e Amalia Dirella che si terrà alle ore 19 nell'aula mania del seminario vescovile a Molfetta. Mercoledì 30 ottobre due appuntamenti incontro di formazione per catechisti ed educatori ACR dei ragazzi di terza media della città di Ruvo alle ore 19 presso la concattedrale e poi a Molfetta veglia di preghiera missionaria alle ore 19 e 30 presso la parrocchia Sacro Cuore. E ora entriamo nel vivo del numero 32 del settimanale Luce e Vita di domenica 27 ottobre. Nell'editoriale il direttore Don Giuseppe Germinario presenta la storia di una ragazza che è tornata a frequentare la parrocchia con assiduità per scoprire cosa significa amare. A pagina 2 un resoconto dell'ottobre missionario che va concludendosi a cura dell'equip del centro diocesano missionario con l'invito ad essere missionari anche oltre questo mese. A pagina 3 alcune risonanze della mattinata in cui Monsignor Cornacchia è stato insegnato della laurea honoris causa in cooperazione internazionale per lo sviluppo e la pace per aver promosso l'impegno per la pace di Don Tonino Bello e aver fatto conoscere il suo magistero. Le pagine 4 e 5 sono dedicate al centenario della parrocchia San Domenico in Ruvo. Lo speciale per le figure di santità della nostra diocesi in particolare Marta Poli e sua ramalia di Rella è ospitato alle pagine 6 e 7. In ultima pagina continua la campagna Uniti nel Dono per sostenere economicamente i sacerdoti che sono al nostro fianco giorno per giorno. In questo numero la storia è il servizio di Don Paolo Malerba e sulla stessa pagina la rubrica di spiritualità. Ricordiamo che è aperta la campagna abbonamenti per il 2025 e che è possibile versare la quota di 40 euro tramite bonifico o bollettino postale come riportato sul settimanale o sul sito luce e vita online. Inoltre entro il 31 ottobre i nuovi abbonati potranno ricevere anche i numeri di novembre e dicembre dell'anno in corso. Grazie per l'attenzione e buona lettura.